se una cosa incerta è che questa è una crisi che sicuramente per la sua portata è difficilmente affrontabile a pezzi, nel senso che tutti dovremo in qualche maniera fare la loro parte per superarla e la cosa su cui soprattutto dobbiamo mettere di cadere è che sono tornata, perché sicuramente una crisi di testa portata è partita da un'attività finanziaria la grande colpa è del sistema finanziario americano che non solo ha prestato soldi senza garanziere e crescendo su questi soldi senza garanziere, ma soprattutto ha consentito nella propria mancanza di regole, la scorsa amministrazione americana ha consentito di fare poche rispettazioni veramente pesante, senza per esempio non è diretta, il lavoro dell'emobiliare americana in realtà è quello che ha consentito con un affluxo di soldi brenati dal mondo cinesi e quindi rispetto a questo è un po' di scoppiare le statistiche, è partita finanziaria ma oggi non è più solo finanziaria, anzi, oggi è nell'economia reale ed è quello che colpisce direttamente l'Europa. Allora, sentivo prima questo momento, perché guardate, all'intervento di Bianchi, su cui si può essere d'accordo, si può essere d'accordo, è quello che se uno parla con gli affigiani, con gli affigiani, con gli affigiani, con l'economia reale, cioè con chi fa i conti dalla mattina alla sera, la sua piccola azienda con due o tre dipendenti e l'imprenditore che sta sul prezzo insieme a loro e che non fa un lavoro diverso, sono queste che pensi sempre. C'è una crisi che ancora non ha sicuramente raggiunto i copi gli affigiani, ma il fatto che i pagamenti avvengono sempre qualità di sempre maggiori, quando lo tengo, che non ci sono più ordini nell'economia reale, cioè che c'è davvero un momento in cui attualmente, arrivando, non si chiede soldi per gli investimenti, ma si chiede soldi per poter continuare a creare aperto in attesa che ripartano l'economia reale. Questo è il dramma che oggi hanno imprenditore. E con loro, tra l'altro, che non su questo davvero ci siano le grandi diversità, non possiamo in un momento così dividere il sistema economico rispetto al sociale. Per questo non ce lo possiamo permettere. E non lo possiamo permettere, non per politica, ma perché praticamente non possiamo uscire, ma non ci siamo veramente in un'altra parte. Sono tutti insieme, gli imprenditori per la loro parte e non quegli imprenditori che portano all'estero soldi o che giocano sugli acquisti azionati. E c'è tanti imprenditori che non vanno a produrre in Polonia o in Cina, delocalizzandolo perché molte cose, soprattutto, non si possono delocalizzarle. E delle maestranze che sono la ricchezza degli stessi imprenditori. quindi non è da vivere solo in contraddizioni. Allora, è vero che le politiche e le istitutive sono importanti. Soprattutto dopo che l'euro ha spostato l'impresa. Però dovevano anche dire la cosa di bene. Il pezzo da un governo non ha fatto nessun tipo di controllo nel passare dell'euro. Io, posso dire alla mia esperienza, io facevo parte del Comitato Provinciale, perché il governo Prodi, dentro dell'euro, ha fatto dei Comitati Provinciali, dei Comitati di Prezzi, provincia, provincia, resto delle prefetture. La prima cosa che cresce il governo dell'Istituto è che non si sono mai uniti questi Comitati di Controllo di Prezzi. Allora, è vero che ci fu uno spostamento vero di ricchezza da una tasse all'altra. Cioè, fra chi ragionò sui prezzi e chi era costretto a pagare i prezzi senza che questo non sia esperienza da un uomo di noi e senza nemmeno rendersene conto. Perché alla fine non si riusciva a capire nell'immediato che un uomo di noi sia proprio un uomo sproveduto. Ma ovviamente diventò più difficile. quindi un argomento sulla distruzione del regno credo sia indispensabile. Ma oggi non è quello che è importante. È un problema non adesso veramente anticipato. Oggi la vera emergenza è far ripartire l'euro. E guardate, il rischio che oggi c'è, e credo di dire una cosa ovvia, ma non so se è così per tutti noi, è che il rischio di defrazione è imminente. La defrazione è quella in cui il consumatore, sapendo che i prezzi diminuiranno domani, aspetta da acquistare. Questo non è, quindi, non ragione in termini di diminuzione del PIB, ma blocca completamente l'economia. Ed è l'unica cosa difficilissima da fargli partire. Cioè l'inflazione zero non è una ricchezza di un paese, ma è un pericolo, capisco. Perché blocca, appunto, l'economia completamente. Cioè la gente non compra più in attesa che la macchia diminuisca il prezzo, i prodotti di lunga grado diminiscano. E oggi, guardate, il rischio è molto vicino. Perché, ovviamente, settore che tirano, non ce ne sono molti. Anche gli ultimi provvedimenti del progetto, che possono, di norma, quando si dà soldi alla fiera, per uso, e anch'io concordo su questo programma, che dirò, non si socializza, ma c'è un'altra faccia dell'andata. E se, e queste le scelte sono dei singoli paesi, non tutti le fanno, nella stessa maniera, se conviene continuare a finanziare settori che sono mai maturi, o seppure, come dice Cioni, ci sono settori che, invece, hanno possibilità di decide, non hanno possibilità di avere finanziamenti. E questa è una scelta buona, una scelta semplicissima. Perché una cosa che è da trovare un settore che ha miliardi di dipendenti, e un'altra, da vari termini di incentivare un settore che quindi è più di occupazione della verità. Ma sicuramente che questo è un tema che non ha da non più sdegnare, nel momento in cui deve garantire azionale, deve dare scelte dove investire, adenuno di un去, sempre lo dove fai, ma in fine di un'altra cosa. Sapendo che in questo derço ultimo, comunque, non sarà sufficiente. Perché vuol riparte l'economia reale oppure il denaro ultimo non è assolutamente sufficiente per coprire investimenti, il sociale e tutto quello che ci sarebbe tema. E qui ci sarebbe risultato. Allora, noi come cosa possiamo fare? Noi non è che possiamo fare molto, perché sicuramente le capacità di spesa, di momento locale, ma anche a livello di circondario, di provincia, di regione toscana, sicuramente non possono incidere.